Sono le 13.41 dell'altro ottobre 2023. Sono usciti i punti qua. Questi sono rinati dalla cerpaia. Allora, questa è la parte superiore e questa è la parte posteriore. Questo è capovolto. Questo lo mettiamo diritto così, quest'altro diritto così, ecco così, e quest'altro capovolto. Allora, che tipi di prunchi sono? Io non lo so. Sono commestibili o meno. Sì, questa zappa qua, mezzo i lamboni. Sono usciti questi funghi. Fiamo ingrandire. Ce ne sono anche degli altri, ma pubbliche, vediamo se sono commestibili o meno.